Adesso c'è un tornante un po' giusto. Mettiamo il 4WD, così. Eccola là che parte. Oddio, oddio. Minchia. Però me l'ha ripresa, hai visto? C'erano 5 centimetri di neve, è vero? Hai filmato? Sì, certo. Finca, bene, bene, bene. Adesso c'è l'altro tornante. Oddio, non vedo l'ora di andare a casa. Non vedo l'ora di essere a casa. Ecco, ecco. Oh, oh, hai visto? Sì, sì. Eccolo qua. Grande macchina. Eh sì, è anche un po' merito di che la guida però. E adesso abbiamo quasi finito i tornanti. Ce n'è uno qua in fondo. Lo vedi qua? Si riesce a indicare la mappa? Sì, sì, vede. Ok. Per cui rassumiamo un po' di cuba. E' un po' di cuba. In città sarà pulita? Cioè, più o meno? Ma in città forse è più probabile. Qua 17 minuti. Sì, andando a una velocità più... Siamo sui 40-50. E' una cosa primo in città. È così. Grazie a tutti.